Forse mi è difficile stabilire un rapporto personale con i luoghi, come nel mio libro Le città invisibili in cui c'è questo trasformarsi delle singole città in una città unica, in una città continua, è un po' la vita che facciamo noi oggi. Ogni mese, anteri mese, svanisce un'altra. Credo che ci sia un'elezione per tutti, mettere in discussione il contratto nazionale, accettare di scambiare i diritti, non con il lavoro, ma con la promessa del lavoro, è una strada comune... Ogni mese, svanisce un'elezione per tutti, mettere in discussione il contratto nazionale, ogni mese, svanisce un'elezione per tutti. Ogni mese, svanisce un'elezione per tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. che negli ultimi tempi ho, mentre scrivo, ho bisogno di consultare dei libri, cose che una volta non succedeva male. Grazie a tutti. 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 Un giorno il signor Ferrovia va dal noto stilista Mr. Tecnologia. Senta le dice. Voglio rimodernare il mio guardaroba casual. Ormai i treni sopra non scorrono abbastanza. Lei mi dovrebbe raddrizzare un po' i binari. Eh, guardi, li fai signor Tecnologia. Se si va a toccare i binari deve costare di più che farsi un guardaroba nuovo. Io, viceversa, le vorrei proporre una cosa molto interessante per i binari che ha già. Il prodotto di una tecnologia molto rivoluzionaria. Si chiama... Ali. Gana. Gini. Musim. Ali. Malam. Gana. Batu. Gini. Gana. Musim. Gana. Malam. Musim. Batu. Ali. Musim. Gana. 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 Gini. Gana. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.